E' stata inaugurata a Rimini Fiera questa mattina la 59esima edizione del Salone Internazionale dell'Accoglienza. Alla cerimonia inaugurale assente il Ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla, il consueto taglio del nastro è stato effettuato da Karen Visani, assessore alle pari opportunità del Comune di Rimini. Questa è la manifestazione con cui nasce Fiera di Rimini e la prima edizione dell'attrezzatura alberghiere fu fatta nelle sale del nostro grande hotel che allora era diroccato al pari di quasi tutta la città. E' una storia di crescita, di sviluppo, di qualificazione perché nel firmamento delle manifestazioni nazionali questa occupa un ruolo di primo piano. Anche quest'anno, nonostante la crisi e la situazione che è pesantissima, davvero di una difficoltà senza precedenti, riesce ad esprimere una situazione di salute, una manifestazione che è in condizione di poter attraversare il deserto della crisi per ritrovarsi poi dopo più forte di prima. Presentato sempre in mattinata il nuovo portale di prenotazione alberghiere Italy Hotel, un sito capace di mettere online i oltre 33.000 alberghi esistenti in Italia.